Gli eletti svolgano il proprio compito con responsabilità guardando ai più deboli. Lo dichiara il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Cardinale Matteo Zuppi, all'indomani del voto delle politiche. Ascoltiamo. Agli eletti chiediamo di svolgere il loro mandato come un'alta responsabilità, al servizio di tutti, a cominciare dai più deboli e meno garantiti. Sono le parole del Cardinale Matteo Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, pronunciate dopo le ultime elezioni politiche ricordando l'appello del Consiglio Episcopale Permanente diffuso alla vigilia dell'appuntamento elettorale. Zuppi sottolinea l'agenda dei problemi del nostro Paese che effitta le povertà in aumento costante e preoccupante, l'inverno demografico, la protezione degli anziani, i divari tra i territori, l'accoglienza, la tutela, la promozione, l'integrazione dei migranti, la transizione ecologica, la crisi energetica, la difesa dei posti di lavoro, il superamento delle lungaggini burocratiche, oltre alle riforme dell'espressione democratica dello Stato e della legge elettorale. Sono queste alcune delle sfide che il Paese è chiamato ad affrontare fin da subito, rimarca il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, senza dimenticare la guerra in corso e le sue pesanti conseguenze che richiedono un impegno di tutti e in piena sintonia con l'Europa. La tornata elettorale è stata però caratterizzata dall'astensionismo, fenomeno che dobbiamo registrare con preoccupazione, evidenzia Zuppi, sottolineando che ha raggiunto livelli mai visti in passato. L'astensionismo è il sintomo di un disagio che non può essere archiviato con superficialità e che deve essere invece ascoltato, suggerisce il Presidente della CEI, che rinnova l'invito a essere protagonisti del futuro, nella consapevolezza che sia necessario ricostruire un tessuto di relazioni umane, di cui anche la politica non può fare a meno. La Chiesa continuerà a indicare, con severità si occorre, il bene comune, non l'interesse personale, la difesa dei diritti inviolabili della persona e della comunità, senza far mancare il proprio contributo per la promozione di una società più giusta e inclusiva.